Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Vedi, secondo l'antica filosofia della mobilità, ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Tranne per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9000 euro di vantaggi. Parti subito e senza pensieri, con il SUV iconico dal carattere deciso, linee raffinate e l'innovativo Peugeot E-Cockpit. Valido solo per vetture in stock, con finanziamento e-move e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023. Scopri di più su Peugeot.it Ça bouge en Bourgogne, Franche-Comté. Rendez-vous pour la troisième édition du Festival des Solutions Ecologiques. Du 24 settembre au 2 octobre, découvrez près de chez vous plus de 200 projets ecologiques soutenus par la région. Et venez échanger avec des experts nationaux à Besançon, Dijon, Neuvers, Montbéliard et Tournus. Débat gratuit sur inscription. Programmation complète du Festival des Solutions Ecologiques sur jeparticipe.bourgognefranchecompte.fr jeparticipe.bourgognefranchecompte.fr On compte sur vous ! Eccoci qui arrivati al punto, al nocciolo della questione, ultima pillola di amici di questo quarto serale, solo tre pillole perché solo tre performance mi hanno dato qualcosa da dire, mi hanno imboccato le parole e tra queste performance c'è la versione di cosa mi manchi a fare di Calcutta di Enula, nonché eliminata della serata. Ora, voglio approfittare, perché secondo me questa performance è proprio lo specchio del motivo per cui la ragazza è fuori. Perché fondamentalmente Enula, andiamo a vedere i canoni, è bellissima, e ragazzi è importante, sta in televisione, in televisione queste cose contano. La dico per prima come skills perché poi mi voglio fermare sulle skills che contano di più, però andiamo a vedere prima gli aspetti esteriori, è bellissima, è particolare, cioè non è solo bella, è una bellezza particolare, canta da paura, ha una voce che ti fa entrare nel suo mondo, l'ha ripetuto allo sfinimento il principe Filiberto, che mi domando come abbia fatto uscire Enula, visto che il principino Filiberto come minimo l'ha proxata, cioè non lo so, ha venduto il regno di Savoia per lei, e ogni cosa che canta te la fa apprezzare, perché è fortissima, e fondamentalmente ti arriva anche. Allora perché farla fuori? Perché eliminarla? Perché ha fatto un singolo, l'ha chiamata auricolari, un altro contorta, e a quei livelli che che cazzo fai? Cioè tu stai là da amici che mi contorta, sei fuori di testa. No, non per questo, non solo per questo, fatta fuori perché la ragazza è un po' paraculo. Cioè lei non è una ragazza che ti canta con quel trascinarsi reale, autentico, lei ti recita l'emozione, è una grande attrice, una bravissima attrice, è talmente brava che nel suo modo di cantare ti arriva dritta al cuore, ma purtroppo quando canti Calcutta devi lasciarti trascinare davvero, a 3,60. E questo arriva ragazzi, perché tu la vedi bella e brava e tutto quanto, ma stai cantando con vanità, consapevole di essere bella, brava e tutto quanto, come a dire adesso ti mostro questa emozione, e quindi ti crogioli del tuo dolore, non stai soffrendo davvero. Quando canti una canzone che invece in cui si soffre, tu devi soffrire. Non mi puoi fingere, è chiaro, tecnicamente ci sono modi, per noi che uno deve sempre soffrire come un cane, però è quella la differenza quando poi si arriva al livello altissimo, cioè che sei a un ballottaggio, cioè tu chiaramente ti devi anche risparmiare, però quando poi si arriva alla fine dei conti, quello più sincero va avanti. E lei gli manca un po' lo steppino della sincerità quella reale, la porta del chakra quella superiore, e sapete da dove si vede? Nel fatto che lei mentre cantava cosa mi manchi a fare, testuali parole, e cosa importa se non mi ami più, lei guardava il movimento di camera, passava la videocamera e lei la guardava, lei era più attenta a mostrarsi allo spettatore, che a cantare l'emozione. E questa fa la differenza ragazzi, io lì ho detto questa me la fanno fuori, io lì ho detto stronza, t'ho beccata, ecco che cosa dirò nel podcast. Perché così raga, non c'è altro da dire, è la prova di quello che dico, sta nel fatto che poi si è messo a fare il discorso per salutare tutti, ha detto anche chi ha fatto i casting, non è passato, classico discorso social populista, che parte da un qualcosa di sentito vero e poi esplode in un qualcosa che vero non è. E così è stato il suo percorso. Siccome è bravissima, è bellissima, e ha una voce particolare, e ha un suo mondo in cui lei ti fa entrare, proprio per questi motivi, è arrivata fino a lì, si è fatta tutta una stagione d'amici, fino alla quarta del serale, e questo si chiama talento. Ma poi c'è un altro aspetto che si chiama testa, e si chiama cuore. Sono due. Testa e cuore. Ecco, a un certo punto il cuore deve battere la testa.